Ma sì, sì, non lo so come fanno, ti riescono a beccare sempre nel momento meno opportuno. Sì, stai al bagno, no, no, secondo me c'è la logica, la logica dei rompicoglioni. Ha chiamato zia, dice che sta organizzando la festa per cianciermi e vuole sapere se domenica ci siamo. Sì, sì, ci siamo, ci siamo. Ah, va bene. Ciao. Allora, ah, che ti stavo a dire? Ah, sì, la... Che ti va la pasta a pranzo? Ma sono le 9 del mattino. La logica. Ma vorrei finire la pasta. E fai il riso. Il riso? Sì. Che stavamo a dire? Ah, la logica... Però il riso con il ragù, non ci sta molto bene. E allora fallo in bianco che mi sento una punta de' castrite oggi. Dio santo, non la sopporto quando va a... Allora, dicevamo, sti caspita di col center... Ma non la mi ha riso in bianco, ma è una tristezza. Ci sta quel ragù che è tanto buono. Vabbè, senti, vado un attimo al supermercato, ci metto proprio un attimo. Sì, vai al supermercato, va al supermercato, vai, vai, subito, battere al supermercato. Allora, che stavamo a dire? Col center... Ah, la logica... C'hai tu una tessera? No, non ce l'ho io. Ah, no! Eccola, ce l'ho io. Sì. Ce l'ho io. Sì, ciao. Ciao. Allora, stavamo a dire... Ti ricordi però che l'ultima volta l'avevi presa tu? Sì, mi ricordo. Ma, consenti, già che vado, vuoi qualcosa? No, non mi serve in niente. No, non mi serve in niente. Ciao, va al supermercato. Allora, eh... Il call center, il supermercato, la logica del supermercato... Amore, però a me non mi vado ad andare al supermercato. Senti, facciamo un'insalata? Sì, fa l'insalata, fa quello che cazzo ti pare, basta che me lasci stare nel bagno! Mi pare in call center oggi! Vabbè, ma stai calmo. Calmati, respirate. Sei tutto viola, sei. Poi dice che gli viene la castrite. Non lo so quello che te stava a dire, non me lo ricordo più, non lo so. Che cazzo. Marta, l'oltre. Curato, voce. Ah, è vero un call center? Eh, ma ci stanno call center e call center. No, no. 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 Lo. Grazie a tutti.